Costrette a prostituirsi con la minaccia del rito voodoo e la triste storia di 12 giovani nigeriane vittime di 5 donne connazionali arrestate dagli agenti della squadra mobile di Teramo diretta dal vice questo raggiunto Roberta Cicchetti. Sono state seguite questa mattina le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 4 delle 5 donne e di un teramano responsabili secondo le indagini di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le ordinanze eseguite sono a carico di Elisabeth Solomon Rasidat nigeriana 42enne residente a Martinsicuro, Vera Obanor nigeriana 44enne residente a Martinsicuro, Adam Socher nigeriana 32enne sempre di Martinsicuro e Kate Osakuva 35enne di Monsampolo. La squadra mobile sta eseguendo in queste ore una quinta ordinanza di custodia cautelare in carcere destinatario invece della misura degli arresti domiciliari è Gerardo Di Sabatino 62 anni di Teramo secondo le indagini proprietario e comproprietario di due degli appartamenti di dimora di giovani prostitute nigeriane. Le indagini corredate da attività tecniche sono state avviate monitorando costantemente la bonifica del tronto allo scopo di interrompere il costante flusso di giovanissime donne nigeriane reclutate in patria con la promessa di un lavoro in Europa e poi fatte giungere clandestinamente attraverso disperati viaggi lungo la rotta mediterranea. Previa sottoposizione a riti voodoo a garanzia del pagamento del debito per il viaggio da 25.000 a 30.000 euro e una volta arrivate in Italia costrette con violenza, minacce e con la forza dei riti a prostituirsi consegnando i proventi a chi le aveva reclutate. I singoli casi sono in realtà storie condivise da molte vittime. Una delle vittime partita nel marzo del 2016 con altre persone dall'Africa dopo aver attraversato la Nigeria e arrivata a Tripoli otto giorni dopo la donna ha raccontato che una compagna di viaggio aveva perso la vita durante il percorso cadendo dal pick up sul quale viaggiavano ammassati dopo essere stata percossa da malviventi incontrati sulla strada i quali pretendevano dei soldi. A coordinare l'operazione il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni oltre alla procura distrettuale dell'Aquila con il sostituto procuratore David Mancini.